Ciao a tutti da Vittorio, la Lazio ha piazzato i primi due colpi a De Cagni e Lazzari, ma non ci dimentichiamo che Walla Sfortuna è ancora un giocatore della Lazio e non è solo lui rimasto ancora alla Lazio, ma prima, se sei un tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube, se funziona, ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Torniamo a parlare della rosa della Lazio perché abbiamo detto che Lazzari e Ade Cagni hanno firmato per la Lazio, ma rimane ancora a Roma Wallace, che direi tutti noi concordiamo nel fatto che non sia un giocatore della Lazio, però il giocatore non è stato ancora piazzato, George Mendes doveva trovargli una destinazione e invece Wallace è ancora ufficialmente un Lazio. Il ritiro inizierà fra una decina di giorni e Wallace è ancora un giocatore della Lazio. Non solo, ma i rumors di Wallace vicino a Flamengo si sono un po' assopite perché Flamengo non è interessato al momento a sborsare la cifra richiesta dalla Lazio per Wallace e quindi c'è il grandissimo pericolo che Wallace rimanga a Roma, anzi vada in ritiro con la Lazio ad Auronzo. Ma non è l'unico perché anche Patrick, che a un certo punto sembrava richiesto da mezza Italia, è ancora un giocatore della Lazio e non ci sono stati affonditi da nessuna squadra italiana e quindi in questi dieci giorni bisogna cercare di trovargli una sistemazione, ammesso e non concesso che Inzaghi lo voglia a Rosa. E poi ci sono tantissimi esuberi rientranti, c'è Palombi, c'è Rossi, c'è Minala, c'è Tunkara, insomma sono tanti i giocatori che sono a disposizione della Lazio sul monte ingaggi della Lazio e questa è un'altra cosa importante da considerare che però non rientrano nei progetti tecnici di Simone Zaghi e quindi bisognerebbe cercare di liberarsene, mandarle in pressito o venderle a titolo definitivo, insomma bisogna decidere anche, è vero che Palombi e Rossi rientrano in quella categoria di giovani interessanti, giovani che hanno un potenziale magari non ancora da Lazio ma hanno bisogno di spazio per giocare e per dimostrare il proprio valore. E poi ci sono i due Anderson che arrivano dalla Salernitana, Dievan e Andre, adesso spero di averli pronunciati correttamente, due giocatori molto interessanti che hanno fatto abbastanza bene alla Salernitana, non si sa se siano utili alla Lazio, insomma si parla che Dievan possa venire in ritiro con la Lazio, che Inzaghi lo valuti molto, però anche lì la rosa è molto molto ampia al momento, rientra anche Vargic dal pressito e direi che la Lazio non ha bisogno di Vargic, c'è Adam Onis, l'altro portiere che rientra dal pressito, insomma c'è pericolo veramente che Inzaghi si ritrovi ad Auronzo con una rosa extra large, almeno 35 giocatori e ripeto c'è pochissimo tempo, adesso non credo che tutti i giocatori facenti parte della rosa della Lazio saranno chiamati per Auronzo, verosimilmente quelli che Inzaghi ritiene non utili non andranno in ritiro con il resto della squadra, però la rosa è ampia e sicuramente non è bello avere giocatori fuori rosa e soprattutto incide sul bilancio perché questi giocatori ovviamente devono essere pagati, è vero Wallace non ha un stipendio stratosferico, però comunque incide nel monte bilancio della Lazio, è un giocatore che credo siate d'accordo con me, ha dimostrato di non essere adatto alla Lazio, eppure è ancora là, su Patrick ci siamo già espressi, ce ne sono tanti altri, c'è Vargic che rientra che è stata una grande delusione, c'è Tuncara che sembrava una grande promessa ma fa fatica a giocare in qualsiasi categoria, insomma sono tanti tantissimi giocatori che sembrano rientrare nel piano di Simono Inzaghi, e poi ci sono i punti interrogativi, Radu rientrerà nel progetto Inzaghi, Durmisi è un giocatore che Inzaghi vuole ancora a disposizione, Berisha, Badel, insomma sono tanti tantissimi giocatori che sono a disposizione di Inzaghi su cui non siamo sicuri se veramente l'allenatore voglia averli a disposizione da Oronzo, quindi la Lazio deve sì andare a comprare quei giocatori, abbiamo parlato spessissimo che la Lazio deve comprare per migliorare la Rosa, ma deve anche liberarsi di quei giocatori che non sono ritenuti più validi, trovano una destinazione per agevolare il compito di Inzaghi e soprattutto scaricare i stipendi di questi giocatori, magari provare a intascare qualcosa dalla cessione di questi giocatori, Patrick è arrivato a parametro zero alla Lazio, insomma a qualsiasi prezzo la Lazio riesce a strappare per Patrick sarà una plusvalenza, insomma però la rosa della Lazio è ampissima e questo può essere un dato negativo perché insomma ricordiamoci in passato la Lazio ha avuto fuori rosa giocatori come Giorgevic, Marchetti, giocatori dallo stipendio importante per la Lazio ovviamente e questo poi blocca un po' le trattative della Lazio, abbiamo sentito spesso e glittare nel passato dire la Lazio prima di comprare deve vendere perché la rosa è troppo ampia, ecco c'è il pericolo che ci ritroviamo nuovamente in una situazione del genere dove la Lazio ha una rosa troppo ampia, ci sono troppi giocatori che poi non rientrano nel progetto della Lazio e questo sicuramente non aiuta Simone Inzaghi, i giocatori stessi che non giocano mai e la società che si ritrova con delle spese tra virgolette inutili perché i giocatori non rientrano nel progetto di Simone Inzaghi. E voi che ne dite? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!